Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo video, oggi farò un video chiarimento Allora, vi dico già che ho la maschera perché oggi non avevo assolutamente intenzione di fare questo video però vabbè, mi sono ritagliato questa pausa, ho detto faccio questo video perché secondo me è molto importante chiarire un concetto secondo me è fondamentale che ci sono state delle persone che non hanno capito nel video di ieri Allora, il video di ieri ho fatto questo video in cui ho preso una posizione molto diciamo diretta e anche seria nei confronti di un film che è stato realizzato che era il film di Cuties in cui venivano usate delle bambine molto molto giovani tra cui una di 12 anni in scene secondo me non consone Il video di ieri sono stato un pochino più diretto del solito perché proprio prima di girare quel video mi è arrivata la notizia che è venuta a mancare, cioè più che è venuta a mancare che si è tolta la vita un'attrice che conoscevo che tra l'altro aveva anche interpretato in un film con anche un altro attore che conoscevo che anche lui si è tolto la vita il mese prima Sembrerebbe che lei da piccola avesse consentito, da piccola insomma, neanche tanto piccola, era già più che maggiorenne però avesse fatto alcune scene che lei in realtà non era a suo agio a fare però le ha fatte lo stesso un po' perché spinta a fare delle scene in cui comunque venivano mostrate le parti del corpo che lei non voleva però ha consentito anche perché ne sarebbe valsa la pena per la sua carriera quindi non so se questa è la vera ragione per cui ha scelto di fare questa cosa però capite che aver sentito quella notizia prima ancora di girare il video non sono stato in grado di mantenere la solita calma che spesso ho nei video io anche nei video in cui sono fermamente convinto di una certa cosa cerco sempre di parlarne in modo pacato ecco nel video di ieri mi sono espresso in modo un filino più diretto perché secondo me non c'era assolutamente bisogno di creare nuove immagini esplicite in cui venivano mostrate appunto queste bambine in un film in cui si potevano trovare un milione di modi alternativi per non mostrare queste immagini e far arrivare un messaggio un messaggio che secondo me sarebbe arrivato in modo anche più prorompente perché se voi volete criticare in modo aspro un atteggiamento l'ultima cosa che andrete a fare è riprodurre quel medesimo atteggiamento se si tratta di minorenni ovviamente se si tratta di maggiorenni il discorso cambia completamente però se si tratta di persone che ancora secondo me non sono in grado di valutare perché secondo me delle bambine di 12 anni cioè non sono secondo me ancora in grado di acconsentire a determinate scene questo per come la vedo io e in un film che potevano essere appunto usati un sacco di altri modi per poter filmare le stesse scene per quel film, per il modo in cui è stato montato come in realtà ha detto Marra nel suo video quelle scene dei sederi e zoom dovevano essere incluse il problema sta nel fatto che sono state usate delle 12 anni a farlo secondo me se avessero usato delle controfigure cosa che tra l'altro pure Marra dice in uno dei suoi video lui dice che comunque mi sembra prima che vedesse il film ha detto che spesso quando vengono usate in queste scene dei bambini vengono usate delle controfigure eccetera eccetera quindi in questo film non sono state usate quindi secondo me sta qui il problema perché appunto poteva essere evitato di creare nuove immagini utilizzando delle minorenni in questo contesto che secondo me non va bene cioè capisco che sono state utilizzate queste immagini per creare una specie di shock nello spettatore e ha funzionato tuttavia avrebbe funzionato lo stesso anche se i sederi che venivano mostrati non erano quelli di questi bambini ma erano quelli di persone che erano almeno maggiorenni e potevano acconsentire realmente a determinate scene questo è il mio punto di vista poi c'è tutto quel discorso che incita alla pedofilia e questa secondo me è una grande cazzata perché non incita alla pedofilia se un pedofilo vede questo film magari si fa una sega però non è che sia una persona tipo io ho visto questo film non è che sono diventato pedofilo perché ho visto questo film assolutamente no come non mi è piaciuto anche il discorso quello di certe persone che dicevano che questo film ha fatto aprire gli occhi anche a me perché come potete vedere mi sono scandalizzato a vedere queste cose quando se mi conoscete io in realtà ho fatto tantissimi video sull'oggettificazione delle donne ho criticato spessissimo queste cose anche nel kpop quindi non è che era sta novità per me quindi non mi ha fatto aprire gli occhi cioè mi immaginavo questo regista con questa camera enorme che andava lì sul culo della bambina e dico ma scusate era veramente necessario fare questo per fare questo film? secondo me no e secondo me sta proprio qui il problema il punto è che secondo me anche se fai un film di critica dove però tu stessa ti mostra queste immagini secondo me la tua critica perde di forza perché comunque tu critichi un comportamento ma allo stesso tempo aumenti la produzione di questo comportamento mettendolo su una pellicola e anche tutto quel discorso che è stato fatto su tiktok che ci sono video anche peggiori su tiktok oppure dei concorsi di bellezza sono d'accordo su entrambe le questioni però sono questioni slegate da questo film perché delle ragazze che si comportano così su tiktok io mi auguro che lo facciano di nascosto dai genitori e che di nascosto mettano questi video online o se i genitori sono d'accordo ragazzi cioè spero che delle forze competenti intervengano perché non mi sembra il caso di diffondere queste immagini ecco perché c'è chi ne potrebbe approfittare i concorsi di bellezza io ho sempre pensato che queste mamme che fanno truccare le loro bambine di 5-6 anni li mettono in un contesto così competitivo eccetera cioè lo trovo un comportamento vergognoso però allo stesso tempo cioè nel senso se si sta parlando di questo film io critico questo film ovviamente se ci sono persone che non si indignano per i video di tiktok e i concorsi di bellezza ma si indignano solo su questo film allora vi dico no non avete capito niente cioè perché secondo me sono tre comportamenti sbagliati ma il film forse tra le tre cose è la cosa meno peggio diciamo però il fatto che sia meno peggio non significa che sia una cosa positiva anzi tutt'altro secondo me potevano essere evitate determinate scene invece hanno scelto di includerlo poi vabbè sempre parlando del video di Marra in realtà io e Marra a parte sul discorso della pedofilia che non incita la pedofilia e lì siamo completamente d'accordo ma anche sulla recensione del film in sé per sé lui è molto più bravo a recensire film di me io non ho mai recensito film su questo canale anzi mi scuso se il video di ieri ho messo recensione di questo film in realtà la mia non era una recensione ma una critica a un determinato comportamento quel titolo non era forse perfettamente consono col contenuto anche perché ho esordito con quel boicottiamo Netflix in realtà è anche quello inserito in una serie di circostanze cioè secondo me Netflix ha fatto una serie di errori in questi ultimi due tre anni che tra l'altro errori di cui parla benissimo anche Marra che secondo me potevano essere evitati perché sembra appunto che ormai Netflix faccia questi film solo ed esclusivamente per fare qualcosa che piaccia al pubblico quindi non è più io creo una cosa e voi la criticate ma io in base ai vostri giudizi e alle vostre critiche creo una determinata cosa che in realtà è una cosa che c'è sempre stata anche nel cinema però secondo me con Netflix secondo me questo è stato portato veramente all'estremo dico solo questo poi per quanto riguarda la critica del film come mi dicevo a me non è sembrato questo gran film cioè c'è chi lo sta lodando come fosse un film meraviglioso cioè io ho visto il film e al di là di quanto mi ha fatto un po' fastidio vedere questi zoom di culi il film mi sembra recitato bene dal mio personalissimo punto di vista però dal punto di vista della regia mi sembra un film che non sta in piedi per tanti punti di vista cioè ma tra l'altro punti di vista ha peraltro condivisi con altri utenti cioè perché comunque cioè io non capivo come questa ragazza cioè il giorno prima non aveva mai ballato in vita sua tre minuti dopo nel film senza che mi dai neanche che ne so cambiami stagione nel film così magari capisci che si è allenata per non lo so tre mesi e allora poi ha imparato a ballare però com'è possibile che lei in due giorni inizia a twercare e due giorni prima non lo sapeva fare due giorni dopo è la più brava di tutto il gruppo cioè non è possibile poi la scena finale l'ho trovata veramente un cliché stupido non mi è piaciuto sarebbe stato molto meglio se finivano il film prima come ha detto Marra nel suo video d'accordissimo proprio se lo staccavano con la scena del palco il film avrebbe avuto molto più impatto e sarebbe stato un po' più poetico invece come l'hanno finito lì è un po' sì cioè mi è sembrato di vedere il film di Gemmele Hologram cioè fatto un po' meglio però neanche tanto così tanto meglio però sembra proprio la stessa storia ripetuta della ragazzina che vuole entrare nel mondo della musica o in questo caso del ballo poi ci entra e poi praticamente la espongono a un mondo che diciamo non era quello che si aspettava la vogliono gettificare e poi allora torna sui suoi passi è la storia di Gemmele Hologram è la storia di Honey è la storia di Noni Noni è proprio praticamente lo stesso film solo che la ragazza non è una minorenne ma è una ventenne quindi capito? cioè non è che il film mi è sembrato così rivoluzionario l'unica cosa rivoluzionaria è che hanno messo questi zoom di culi di bambine ma a parte quello non c'è nulla di così stravagante e secondo me il film sarebbe stato perfetto se questi culi fossero stati culi di ragazze maggiorenni questo è il mio personale punto di vista perché nessuno nella regia non ha potuto pensare a queste scamotage non ci sarebbero praticamente state critiche secondo me e invece no quindi è andato così e questo lo dico perché in realtà ci sono altri film in cui si parla di abusi anche molto più belli di questo e molto più incisivi perché sembra che hanno sfornato questo capolavoro a me non sembra per niente un capolavoro sto film ma mi sembra proprio una storia cliché fatta benotto ma non cioè io non griderei mai al capolavoro per questo film non mi è sembrato per niente un capolavoro e se non ci fossero state queste scene che vi ho detto prima non mi sarei neanche messo a fare il video questa è la mia personalissima visione per esempio Precious che è questo film di quest'adolescente mi sembra che lei nel film avesse dovuto avere 15 anni l'attrice invece mi pare ne avesse 26 quando ho girato questo film che era stata abusata eccetera eccetera e c'è una scena che è di una forza spaventosa che mi sono messo a piangere dall'inizio alla fine in cui praticamente lei viene abusata ma tutta questa scena dell'abuso non viene mostrata e secondo me quella scena è di un impatto estremo e quello sta proprio alla bravura di un regista di riuscire a comunicare qualcosa di muovere una critica forte senza dover ricorrere a queste scene un po' cheap che secondo me in quel film si servivano i culi ma secondo me lo stesso film con la stessa tematica e la stessa motivazione critica poteva essere fatta in un modo in cui non c'era nemmeno bisogno di mostrare i culi con controfigure che poi in realtà hanno usato loro stesse però capito secondo me ci sarebbero potute stare delle scelte di regia che avrebbero potuto portare allo stesso messaggio senza ricorrere a questo un po' come io adoro i film horror che riescono a incutere paura senza bisogno di usare a questi jump scare che secondo me è proprio il modo più cheap quindi io ho visto questi zoom sui culi proprio come un jump scare in un film horror che mi van bene non ci sono problemi però solo se se questi culi sono di maggiorenni ecco questo è il mio discorso se siete delle persone che non si indignano per i video di tiktok e non si indignano per i concorsi di bellezza vi dico questa critica a questo film è stupida però non ditemi che il trailer è stato montato male o la copertina forse fuorviante perché secondo me la copertina e il trailer rappresentano esattamente quello che poi è stato protratto nel film al di là del contesto in cui è stato inserito secondo me quando si tratta di mettere alla merce di tutti i culi di dodicenni secondo me non c'è contesto che tiene perché si potevano usare un milione di altre soluzioni per non dover usare queste scene secondo me questo è quanto sì il discorso di boicottiamo Netflix no penso che sia eccessivo però se continua Netflix a fare queste scelte qui mi inizia a stare un po' sul c***o semplicemente quello ma anche perché lo sto guardando sempre meno quindi non c'è più nulla che mi interessi particolarmente che sia esclusiva Netflix e non ho neanche tanto tempo per guardare film quindi così vabbè ragazzi ditemi che cosa ne pensate lasciate un mi piace se siete d'accordo con me se ho detto qualcosa di sbagliato fatemelo sapere questa è la mia opinione se voi siete convinti che fosse necessario includere i culi di 12 anni per diciamo mostrare questa realtà cruda vi dico liberissimi di pensarla così secondo me non era il caso perché appunto potevano essere usate controfigure per quelle scene il film avrebbe avuto lo stesso impatto anzi un impatto migliore perché non solo criticavi un comportamento ma in più non lo riproducevi perché riprodurlo secondo me proprio fai perdere l'importanza alla critica detto qua detto qua va bene ciao